Le piastrine o trombociti sono elementi morfologici anucleati, privi di nucleo Nascono dal midollo osseo, sono circa 154 000 per mm, sopravvivono tra gli 8 e i 12 giorni e la loro formazione è la regolata da trombopoietina, interleuchina 6 e fattori di crescita specifici Essi originano nel midollo osseo a partire da megacariociti, il cui citoplasma si suddivide in piccoli frammenti circondati da membrana Circa 4'000 per cellula, sono cellule responsabili della coagulazione del sangue e di un fenomeno detto emostasi, cioè fermano il sangue in caso di piccola emorragia